Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi veramente non vedo l'ora di farvi vedere la nuova collezione per giugno perché ogni mese io diciamo mi ispiro a un tema in particolare e faccio delle cosine nuove in primo ovviamente sempre in vendita anche per voi sia su richiesta sia insomma quelli che ho disponibili direi quindi di partire subito e vi faccio vedere questo che ho realizzato per me e ovviamente posso realizzarlo uguale anche per voi c'è la collanina abbinata e l'altro orecchino ovviamente adesso li metto qui sul tavolo e vi faccio vedere come sono nel dettaglio e adesso vi farò vedere anche le altre cosine anche indossate quindi direi di partire piccola parentesi se volete ordinare una di queste creazioni in Fimo potete scrivermi in qualsiasi social mi trovate come Giulia Pilli e potete anche scrivermi alla mia mail che vi metto in sovrimpressione in infobox e niente direi di partire con le nuove cosine dunque partirei subito con le novità ragazzi abbiamo questi oddio un peletto di Emma abbiamo questi tre mono orecchini che non ricordo se c'erano anche l'altra volta questi tre mono orecchini potete richiedermeli sia a coppia cioè due di questi due di questi o due di questi oppure potete decidere come me di indossarli spaiati questi qua infatti sono i miei che utilizzo e quindi se li volete io ve li realizzo uguali ma questi qua sono i miei e io non li indosso mai a coppia però dai sondaggi ho visto che molti di voi preferivano la coppia con i due chihuahua che vi ho fatto vedere quindi ovviamente potete indossare sia così sia così che anche così io adoro veramente indossarli spaiati e faccio un po' tutte le combinazioni questi qua ragazzi mi sono dimenticata di dire che vengono tre euro l'uno quindi un paio viene sei euro ovviamente ok poi andiamo avanti abbiamo le collanine ok è un po' scura vediamo se riesco a farvela vedere un po' meglio ok ragazzi questa qua è ispirata a Alice in Wonderland se vi ricordate ci sono i dolcetti con scritto it to me molto molto carino secondo me ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate questa qua invece siccome ha delle sfumature all'interno che non sono ricreabili questa qua è unica quindi nel caso in cui la vendo poi le altre cercherò ovviamente di farle più simili possibili ma ovviamente sono cioè non sarà proprio identico in tutto e per tutto questa qua viene sei euro e poi ve la farò vedere anche indossata ok la luce è sempre è sempre il tallone d'achille dei miei video altra collanina anche questa viene sei euro tutte le collanine alla fine sono abbinabili agli orecchini poi vi faccio vedere sempre tutto indossato sono tutte abbinabili ragazzi anche volendo questa si può abbinare anche a questa qui fatto che siano abbinabili dipende anche dal fatto che i colori utilizzati sono sempre gli stessi quindi diciamo che stanno bene anche spaiati e abbinati tra di loro questo qui è un ciondolo per collana che questo qua ovviamente è unico perché non si può realizzare perfettamente identico questo qua viene due euro e potete metterlo con qualsiasi catenella oppure se volete ve la realizzo io ovviamente abbiamo una collana questa qua proprio nuovissima molto molto estiva abbiamo il cono gelato la chihuahuina e lo stecco gelato questo qua non è infimo ma è un charm ragazzi ve la faccio vedere sempre abbinata agli orecchini per farvi vedere quanto ci sta bene questa qua ragazzi viene 9 euro e la catenina è molto fine secondo me è molto carina tutte queste catenine sono nickel free e le prendo dalle bimbi che è uno store di cui mi fido molto perché ha cose veramente di ottima qualità e l'ho sperimentato io stessa che indosso tutti i giorni il mio braccialetto che ho realizzato con i ciondoli in fimo e la base l'ho presa dallo stesso negozio online ok ragazzi quindi questa qua 9 euro le collane sono finite direi di passare al portachiavi ragazzi i portachiavi allora novità assoluta per questo mese abbiamo questo portachiavi è dorato col marshmallow vabbinato questo è gusto menta e caramello ed è ovviamente ispirato a un chihuahua e un cono vi faccio vedere anche il retro ok questo è il retro ovviamente si può realizzare in tutti i gusti e questo qua viene 6 euro e 50 poi ovviamente sono sempre disponibili i portachiavi e i fonds tracco personalizzati del vostro cagnolino basta mandarmi la foto del vostro cane dirmi qual è il colore che preferite per la base e se avete preferenze anche su tipo la fragole, il marshmallow questa qua per esempio è panna al pistacchio con i zuccherini e insomma mi fate sapere le vostre preferenze e con la foto del vostro cagnolino cerco di realizzarla personalizzata no cagnolini pelo lungo perché mi fanno un po' sclerare e quindi insomma cani pelo corto ragazzi come phone strap la novità è questa quindi cono gelato rovesciato con la faccina ok mettimi a fuoco ti prego ok cono rovesciato con la faccina dolce e questo qua viene praticamente come al solito così attaccato al cellulare oppure alla borsa ragazzi ovviamente anche questi me li potete richiedere personalizzati mandandomi la foto del vostro cucciolo io mi ispiro a lui e cerco di farlo più simile possibile questi di qua vengono 4 euro e questo di qua invece è così che ovviamente è disponibile in tutti i gusti e questo qua viene 4 euro e 50 perché è un po' più elaborato da fare semplicemente e poi ultimissima cosina che vi devo mostrare ragazzi super novità è questa qui questa qui ragazzi è una follettina protettrice dei chihuahua come vedete ha l'orecchio da chihuahua ragazzi siccome la luce non è proprio delle migliori se volete seguitemi sulla mia pagina instagram giulia pilli collection dove vi posto tutte le foto delle mie creazioni questa qua è seduta su una foglia cerco di farvela vedere nel miglior modo possibile nonostante la luce sia quella che è questa qua ragazzi viene 9 euro la posso realizzare ovviamente come meglio preferite mi potete dire se la volete liscia riccia colore i capelli colore vestitino e se a posto della foglia volete che so un fiore insomma questa qua potete commissionarmela un po' come preferite e viene appunto 9 euro la collezione è finita queste qua sono le cose le rimanenze della scorsa collezione e ve le metto tutte in saldo questo qua viene soltanto 1 euro questo qua viene soltanto 2 euro questo qua solo 9 euro vi ricordo che il braccialetto di norma viene 15 quindi se se poi me lo richiedete cioè se io questo lo vendo me lo richiedete magari personalizzato col fiocchetto azzurro il marshmallow o se magari il posto del marshmallow volete un altro dolcino questo qua a prezzo pieno viene 15 euro questo qua invece ve lo metto a 9 poi questo qui che era quello che mi era caduta la colla dietro e si era un po' rovinato la coppia ve la metto a soli 2 euro e questo qua che ditemi voi se lo preferite come phone strap come ciondolo insomma come lo preferite ha pure un piccolo difettuccio e ve lo metto a 1 euro è un semplice cupcake con il cioccolato e la fragolina ok ragazzi direi che vi ho mostrato tutta la nuova collezione vi ricordo che i chiwi cake che sarebbero ragazzi non trovo un chiwi cake che sarebbero questi qua cioè che questo in realtà non è un chihuahua ma è un cagnolino di una mia follower infatti questo domani glielo spedisco questi qua i chiwi cake potete richiedermeli non solo di cagnolini pelo corto ma anche gattini con inghietti l'animale che avete voi insomma mi mandate la foto io se lo posso realizzare ve lo dico altrimenti vi dico mi dispiace ma non so come farlo quindi questo è quanto e vendono come l'ho detto vengono la versione portachiavi viene 6 euro e 50 mentre la versione phone strap quindi così viene 4 euro ok ragazzi questo è quanto la spedizione a prescindere da quanti prodotti prendete viene sempre 3 euro quindi niente ragazzi spero di avervi detto tutto fatemi sapere qui sotto sempre nei commenti cosa ne pensate se avete delle ideucce per ispirarmi oddio non vi ho fatto vedere il completo che indosso ora vi faccio vedere e dicevo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se volete una delle mie creazioni scrivetemi dove preferite e niente io a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video che vi faccio vi faccio vi faccio chiamo vi faccio ci vediamo vi faccio vi faccio